Mi metti che è uno stile o un civile? Civile, civile Ricevuto saranno ribelli Squadra, entriamo nella struttura Scavalchiamo il muretto e parliamo con il contatto Ok, 4 disingaggia e torna in formazione Regole d'ingaggio, no fire 3 contatti a sud-est, bordo strada Ricevuto 3, 4 attraversate veloci Andatemi via per l'attraversamento Via Via 2, andiamo andiamo Negativo Mi devo ritrovare una linea di tiro Ok 3 verde Bel colpo Procediamo Cuneo Verso est Ok Fermi tutti a terra C'è un drone Cos'è? Sono quelli di trasporto Ah, non è ostile Perfetto Avanziamo, avanziamo Procediamo sotto gli alberi Contatti ore 12, linea aperta Contact 3 di verso nord 4, creati una linea di tiro sui contatti Ricevuto Direzione I contatti sono all'ovest Ok Mi sono creato una linea di tiro Ho entrambi i contatti verdi Sia sul primo contatto Quello senza il berretto Sia su quello col berretto Entrambi verdi Richiedo Ho ricevuto Richiedo Acquisizione bersaglio Rimani in attesa 4 Copi 2, 3 Avanziamo a nord Attivo 4 Prendi quello col berretto 3 Prendi quello Senza berretto Verde 3 Verde 1.1 1.2 1.3 A terra Ottimo lavoro Movimento nord Rendezvous Alla roccia Nord La roccia grande Che vi trovate Sul percorso Controllo mappa Formazione riccio Ottimo Bene Muoviamoci Nord-Ovest Formazione cuneo E avanziamo Nord-Ovest 4 Tieni sotto controllo La torretta Cecchino E la pattuglia Sul ponte Ricevuto Corvo 1 Ho un contatto verde Sembra un cerchino Un tiratore scelto L'ingaggio solo in caso di emergenza Rettifico Rosso Ricevuto L'ingaggio è libero solo in caso di emergenza 2-3 Muoviamoci bassi Entreremo Il contatto si muove sul ponte Lasciatelo perdere Quella è roba di Corvo 4 Muoviamoci bassi Entriamo dal Lato dell'antenna Il lato nord-est Mi metrizzate vicino a una Veicolo nemico Vicino a me Quattro È in linea di tiro Sul passerella Qui Corvo 4 Attualmente il contatto È in fase di giallo-rosso Non mi sento di Di abbattere il nemico Ricevuto Totalmente rosso ora Corvo 1 Ricevuto 2-3 Muoviamoci est Veloci Traversiamo la strada Il contatto è tornato a verde Copiato Colonna 2-3 Colonna 2-3 Entra nella struttura 3-3 Stammi dietro Prendi la mia posizione Su questa copertura 3-3 Perfetto Sono dall'altra parte Della strada E c'è un contatto Sul prefabbricato A ovest 4-4 Quello sulla passerella Ricevuto Appena verde Faccio fuoco Verde Apro il fuoco Contatto a terra Ottimo lavoro 3-3 Hai linea di tiro Sul bersaglio Col cappello E le cuffie Quello sotto la torretta Esatto C'è luce verde E in arrivo Altro contatto Sul lato 2-3 Muoviti verso Muoviti verso Il checkpoint Attraversa la strada Entra nel checkpoint E fai fuori Quello che sta dentro 3-3 Al mio via 1-1 1-1 1-2 1-3 1-3 Contatto interno Abbattuto Ho visione Suto due ragazzi Ottimo lavoro 4-4 Spostati Oltre la strada Verso ovest Ci sono degli alberi E c'è una collina Ricevuto Mi muoviti su quel lato Faccio rapporto Non appena arrivo in posizione Ricevuto 3 Seguimi Negativo Gaz Corvo 1 3 contatti Nemici In movimento Sulla strada Verso di voi Nord Copiato Ottimo lavoro 3 Portiamoci in posizione Muoviamoci sulla collina ovest Ok Punto di accesso ovest In movimento Movimento veloce Verso le rocce Ok 3D Contatti nemici Tutti a terra Battuglia da 2 OX Est Confermo Molto vicine Rimaniamo fermi Periore contatto A A nord est Guarda verso l'edificio bianco Ricevuto Genialo un cecchino Nord est In cima All'edificio più alto Ricevuto Confermo Corvo 4 Corvo 4 Resta in posizione Su questo lato In altezza Posizione dell'em sinistra C'è un po' più di altezza Mi muovo Cito un contatto Rischioso Rischioso Fai fuori 1 Rosso 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 Vai 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 Corvo 1 Non ho contatto visivo Ricevuto Ricevuto Ce ne siamo occupati Mi ha fatto bene A darmi Il rosso 3 Spostati Copertura est Dove ci sono le scale Coppi Intercettarlo Il momento è sul terrazzo Ci sono anche contatti civili Ricevuto Battuto il contatto A tutta la squadra Sul tetto Vedo solamente civili Ricevuto C'è un drone Un drone sopra di voi Un cherubim Un drone ostile Affermativo Corvo 1 Rubin non è armato Però Ci rileva 4 Fai fuori quel drone Ricevuto Corvo 1 Attualmente Il bersaglio È Rosso Appena verde Lo abbatto Ottimo lavoro Ottimo lavoro Ottimo lavoro Squadra Muoviamoci 2 libera L'edificio Al piano terra 3 insieme a me Ando esterno Fuori sulla terrazza Guardando Guardando Dentro la porta Lo prendo io Tu occupati Dell'interno Ok 3 Vieni con me Vieni con te Abbiamo un altro Juggernaut Ma questo davanti a noi Vuoi fuori tu Coppi Coppi Fallo fuori Spostate la mia sinistra È un Juggernaut Verde Ottimo lavoro Quattro Terra libera Qui corvo 4 Affermativo V2 segnala Leone delle scale Che portano Al piano superiore Ricevuto Ricevuto 4 vai fuori Il cecchino Rosso 3 Ricevuto Non ho Contatto visivo Purtroppo 3 sali 4 vai fuori Il cecchino Ricevuto Qui corvo 4 Il contatto è verde Apro il fuoco A terra Contatto abbattuto E tetto libero Ottimo lavoro Abbiamo dei contatti sotto di noi A sud est Sì Sì Li vedo Nel parcheggio Li vedo Corvo 2 Sono due contatti Sono due contatti armati Ne conto tre armati Compreso un operatore radio Sinistra della jeep verde Con la gatling Ho ricevuto corvo 2 Non ho contatto visivo Su quel contatto Ok Squadra abbiamo Le informazioni necessarie Possiamo spostarci A nord Ok Dobbiamo fare parecchia strada Per arrivare al punto obiettivo Pronti Per contatti più un carobin Pronti Quattro Trovo 4 punti il carobin Ricevuto verde Prendilo A terra E via Spostiamoci Spostiamoci Aspetto che esca dal Checkpoint La nostra sinistra è fatta Vedo il furgone Ok Li taglio Li taglio la strada Si Verde Verde sul guidatore A terra A terra No no Negativo No no Confermo 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 Ottimo lavoro Via via Scendete Ottimo lavoro Prendete il mezzo Vado sul mezzo Ci sono solo due posti Uno deve rimanere Vai vai Prendete il mezzo Ok Scendo Black sul mezzo C'è energia C'è energia Della batteria Di due sul mezzo Ti seguo Cazzo Poi Ricevuto Obiettivo E tornare indietro Non arrivate E tornare indietro Lee E tornare indietro parla grazie a tutti